Ci sono molte prove che la nostra città sta affrontando e ovviamente questo avviene in un contesto difficile, di crisi economica, sappiamo tutti bene i tagli che sono stati inflitti agli enti locali, i problemi delle risorse, quindi obiettivamente siamo in una situazione di grande sfida, di grande sfida per l'amministrazione e per tutta la città. Io credo che stiamo dimostrando anche in questo momento di essere in grado di reggere il campo, di affrontare tutte le difficoltà, non abbiamo lasciato nessuna persona che ha bisogno di assistenza, di aiuto, senza un sostegno, senza un aiuto, non abbiamo mai interrotto il rapporto con quelle che sono le imprese, con il sistema produttivo, stiamo reggendo il campo in una situazione oggettivamente difficile per tutti i comuni. In tutto questo, in questo contesto, si sta rafforzando una situazione veramente problematica, un ulteriore problema per la nostra città. E qual è questo ulteriore problema? È il problema di una opposizione sinistra che ha nei nostri confronti una sorta di rancore profondo, una sorta di odio viscerale che denuncia qualcosa di più grave. è brutto quando le forze politiche si odiano tra di loro, non dovrebbe accadere, ma c'è qualcosa di più grave nella sinistra romana. La sinistra romana si sente defraudata da parte nostra di un loro possedimento. Considerano quello che era il Comune di Roma e oggi è Roma capitale, una sorta di loro dominio che deve essere incontrastato. E il nostro arrivo qui è qualcosa da cancellare, da negare completamente. È una sorta di usurpazione che loro vedono. Bene, io credo che noi dobbiamo dire con chiesa un fatto. Io non sono qui, non sono al Campidoglio perché ho usurpato qualcosa o rubato qualcosa. Sono qui perché i cittadini romani hanno scelto di votarmi. E in quanto sindaco di Roma devo svolgere le mie funzioni, devo avere quel rispetto istituzionale che è necessario sempre per poter governare una città, perché se manca quel rispetto istituzionale nei confronti del sindaco, si manca di rispetto nei confronti della città che lo ha scelto come sindaco. Ma soprattutto, quello che voglio dire è che non soltanto noi rimarremo qui e continueremo a lavorare costantemente fino in fondo per fare in modo che la città vada sempre meglio, ma soprattutto vogliamo dire che non accettiamo una logica di proprietà politica rispetto a questa istituzione e a questa città. Roma è una città libera che sceglie di volta in volta e che sa fare le proprie valutazioni. Vi faccio degli esempi per spiegare quello che sto dicendo. Il primo è quello relativo agli incidenti del 15 ottobre. I incidenti del 15 ottobre semmai dovrebbero porre una riflessione all'interno della sinistra e alla sua capacità di isolare i violenti. Non certamente poter essere rovesciato nei confronti della nostra amministrazione come se fosse una colpa nostra di quelli che possono essere problemi oggettivi per quanto riguarda l'ordine pubblico. Noi sappiamo che le forze dell'ordine hanno fatto tutto il possibile il 15 ottobre per limitare i danni e sappiamo che la sconfitta, l'isolamento dei violenti passa per un processo politico di isolamento reale, di negare ogni solidarietà che purtroppo ci sono state spesso queste solidarietà, ma passa anche per un lavoro costante tutto l'anno di intelligence che lo Stato deve fare su tutto il territorio nazionale. Quindi noi abbiamo affrontato una situazione che è stata un'offesa per la nostra città. Ma dopo questo c'è stato il nubifraggio. Il nubifraggio è stato un elemento che ha colpito tutta Italia. A Roma c'è stato un morto, ma in Ligure ci sono stati sei morti e sono fatti drammatici lutti reali. Allora, com'è possibile di fronte a una tragedia di questo genere solo a Roma la stampa di sinistra, l'opposizione di sinistra cerca di indicare una sorta di responsabilità nei confronti del sindaco e dell'amministrazione. Non mi pare, ed è giusto che sia così, che si sia attribuito al Presidente della Regione Liguria delle responsabilità rispetto a sei morti che sono venuti in Liguria o in altre zone del paese. Solo qua una sinistra completamente fuori dal mondo pretende di accollare anche un nubifraggio a quella che è la responsabilità dell'amministrazione. Infine, ultimo esempio, quello più recente, forse quello più innocuo. Un centro commerciale apre, non dà previso della massiccia campagna di informazione che fa attorno a una vendita sotto costo, una vendita proporzionale e genera un ingorgo all'interno della città. Ora, tutto questo rimanda a carenze normative, rimanda al fatto che non c'è un obbligo esplicito da questo punto di vista e rimanda a una grave incuria da parte della catena distributiva che ha fatto questa promozione e non ci ha avvertito prima. Tant'è vero che hanno chiesto scusa, hanno chiesto scusa a noi e alla città. Anche su questo, la pretesa dell'opposizione, la pretesa di una parte, signale dire, di stampa è quella di dare la colpa all'amministrazione. Qualsiasi cosa succede non si studia come risolvere il problema, ma si studia come trasformarlo in un elemento polemico contro questa amministrazione. Allora, io sono costretto a interrompere per esempio i rapporti con Repubblica. I rapporti si basano sul rispetto reciproco. Io ho sempre rispettato Repubblica, anche quando l'ha pensata e la pensa in maniera completamente diversa da me, ma non vedo rispetto nelle pagine di Repubblica, nelle pagine della cronaca di Repubblica. Questo mi costringe nei confronti degli oppositori a avere un atteggiamento sempre di appello al lavoro comune e all'unità, ma anche di grande condanna rispetto a questi atteggiamenti che creano confusione e disagio nella città. Questo è un modo per noi per dire con chiarezza che la città va avanti, che la città non è sotto ricatto di nessuno. Nessuno si può permettere di ricattare e di mettere sotto condizionamento questa città attraverso le menzogne. I cittadini fra un anno e mezzo valuteranno il mio operato, sceglieranno liberamente, ascolteranno la propaganda di tutti e andranno a scegliere e valuteranno lo sforzo che è stato fatto in questi cinque anni dalla nostra amministrazione. Ma quello che voglio dire adesso sono le cose concrete. Per quanto riguarda i danni subiti dai cittadini romani il 15 ottobre per le violenze di piazza, stiamo raccogliendo tutti i dati, abbiamo fatto un dossier preciso, l'abbiamo dato in prefettura e stiamo chiedendo un risarcimento dei danni a questi cittadini. Per quanto riguarda l'alluvione, la Regione Lazio ha riconosciuto lo stato di emergenza, ha dimostrazione che stato di emergenza c'è stato e attraverso questo stato di emergenza, non appena sarà valutato dalla Protezione Civile Nazionale, ci sarà il risarcimento previsto per legge per chi ha subito danni all'alluvione. Per quanto riguarda i centri commerciali, chiederemo una modifica della legge nazionale che deve imporre, quando si fanno eventi straordinari di questo genere, di dare un preavviso certo e di accollarsi tutti i costi derivanti da questo intervento. Questa è la nostra politica concreta. Noi continueremo su questa strada, lasciamo agli altri le menzogne, le infamie e questo atteggiamento è veramente intollerabile e ripetiamo, Roma fa parte dei cittadini romani e dei cittadini romani non è di una parte politica affamata di potere. Grazie a tutti.